Cosa vuoi? Cose che succedono? Va bene, dai, partiamo. Siamo dopo domani, però sapevo dormivo qui, che cazzo. No, dai, adesso ho sentito parlando i ragazzi, niente, parlavamo d'altro, nessuno ha news, però tranquillità, con quel poco che si pagano i biglietti, cazzo me, va bene, insomma, niente, si dice che partiremo intorno a mezzanotte, quindi partiremo domani, arriveremo neanche a Bergamo, a Malpensa, perché ce lo devono far scontare tutta. No, non è vero, però insomma. Che ansia che c'è il comandante passato. Quei comandanti. Perché in inglese sia tutti o italiani o... ...l'accarção è il comandante. Che ansia? È il comandante. Che ansia? Ok. I don't know why but this is la vita. And then, ricordo che abbiamo due bagni, una guasto, a breve passeremo con panini caldi al solito 12 euro il più piccolo, l'acqua benedetta quindi 7 euro 33 centilitri, coca cola 27 euro, vi ricordo che potete comprare il Corfu, gli uomini che costano meno dell'acqua, bevetevi quelli, più tardi mentre starete per adormentare, vi sentirete perché non compri un gratto e vinci a farlo, passatevo sopra Nizza in quel momento quindi parliamo del 7 luglio, non arrabbiatevi perché la vita è una, non vale la pena incantarsi per due ore di ritardo, cosa volete che siamo, senti che c'è gente che domani lavora? E' il vostro accogliente, grazie ancora per averci dato il tuo maioneo, speriamo magari di vedervi su all'Italia, grazie a tutti dai, adesso passerà, grazie. Sì, ho un'ora quindi, qua si ride, c'è gente che ride, si scherza, intanto battiamo davvero il, aspetta oggi era il 18, partiamo il 19 giugno, alle ore 2 locali a Guantanamo, sono stanco, l'hotel ci ha fatto lasciare la camera alle ore 12.05, mi sudano anche i denti ormai, la mattina quando entro a casa quel bagno lo distrugo, se volete andare in questo bagno vi consiglio di, occhio, che ha un risciucchio notevole, adesso sono mono, beh, questo è difficile, grazie a tutti, niente. Abbiamo cose già volendo, ma sono sì, abbiamo l'acqua di Giorgio Armani da bere, ma la domanda che tutti ci siamo fatti è perché siamo saliti sapendo? Mi sa, aspetta, calma, non fate quelli che, di sinistra, non lo sapevano, l'hanno saputo appena si è chiusa la porta, Qualora? Faccio te, dà speranza che, perché state un'altra atmosfera viina qua, quindi a il ErÍspanio si siano un pareto malari, allora dobbino i miei di Venury i bimben, lo sulredicto anche il pedico… Quindi ovviamente ce stiamo sprecciando perché è tale qui amico, si è il Signore ... Vai, vai! Bo bene, basta, guardiamo la So, che non sarà sempre che, ma basta Grazie a tutti. Un dolore! Grazie.